Fedez è finalmente stato dimesso dall'ospedale Fatebene Fratelli di Milano dopo un drammatico ricovero durato otto giorni. La sua permanenza in ospedale è stata causata da un'incresciosa emorragia interna derivante da due ulceri intestinali. La notizia della sua dimissione è stata accolta, con un sospiro di sollievo da parte dei suoi fan e della sua famiglia, che erano rimasti in ansia durante questo periodo difficile. Durante la sua permanenza in ospedale, sia il padre Franco Lucia che la moglie Chiara Ferragni hanno fatto visita a Fedez, dimostrando il loro amore e supporto incondizionato. Fedez, visibilmente commosso, ha espresso la sua gratitudine nei confronti dello staff medico del Fatebene Fratelli e, in particolare, del professor Zappa. Ha inoltre voluto rendere omaggio a tutti i donatori di sangue che hanno contribuito a salvarlo, sottolineando l'importanza cruciale della donazione del sangue per la sopravvivenza di pazienti come lui. Con la sua caratteristica determinazione, Fedez ha promesso di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della donazione del sangue e cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo. Perché senza i donatori di oggi, non sarei qui, ha dichiarato il cantante, mentre usciva dall'ospedale dopo aver ricevuto ben tre trasfusioni. Nonostante il difficile percorso di guarigione che lo attende, Fedez ha concluso, con un messaggio di speranza, devo riprendermi ancora un pochino. Ho bisogno di riposo. Ma sto bene grazie. Ha quindi ringraziato pubblicamente sua moglie Chiara Ferragni, per essere stata sempre al suo fianco in questo momento critico. La coppia è uscita dall'ospedale insieme, pronta a iniziare la fase di recupero, con il sostegno reciproco.